salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete intuito dall'intro vi porto sul canale un altro prodotto OGC questi prodotti che io adoro che sono veramente fantastici e che sono realizzati da due ragazzi altrettanto fantastici Nicola e Filippo che saluto ciao Nicola ciao Filippo i creatori e i produttori di questi prodotti OGC oggi ragazzi vi porto sul canale questa versione della loro console dopo avervi portato la console portatile questa dopo avervi portato la console da attaccare alla tv molto minimal che si nasconde dietro la tv o dentro al mobile sotto la tv comunque una console che si può mettere dove si vuole perché è piccolissima con il suo joy arcade o addirittura controllabile con un joypad bluetooth quindi senza fili senza niente dal salotto oggi ragazzi vi porto sul canale la versione tutta inclusa nel senso che abbiamo un joy arcade con all'interno già una console quindi un prodotto all inclusive nel senso che abbiamo tutto in uno un po' di stile pandora ragazzi ma con tutti i vantaggi delle console OGC quindi il loro sistema operativo olga e la loro personalizzazione delle console questa ragazzi ve l'ho portato sul canale perché oltre a essere all inclusive nel senso che ha la console integrata nel joy arcade la cosa bella avete visto ragazzi sono i tasti retro illuminati secondo me bellissimi con le cromature intorno al tasto quindi una finitura niente male una grafica veramente accattivante che riproduce street fighter perché comunque questa grafica che riproduce il gioco di street fighter diciamo uno dei giochi più famosi degli anni 80 e non solo e ragazzi guardate la finitura anche qua intorno sempre con la cromatura perché è la cosa bella di questi prodotti OGC ragazzi che funzionano bene sono fatti con materiali ottimi i tasti la leva di controllo sono tutti fatti con materiali di altissima qualità e in più qua abbiamo una grafica personalizzabile e le finiture che ragazzi veramente tanta roba quindi mettendo insieme ragazzi un sistema operativo esclusivo cioè creato interamente da loro in continuo aggiornamento che più o meno propone un 2-3 aggiornamenti all'anno del sistema operativo perché questi due ragazzi veramente lavorano tantissimo a tempo perso ma ci perdono dietro veramente ore e ore di lavoro quindi un sistema operativo che viene sviluppato in continuazione quindi con due o tre aggiornamenti all'anno che lo continuano a migliorare e lo fanno comunque sempre evolvere in meglio in più la personalizzazione come vi dicevo prima ragazzi sia delle grafiche perché loro veramente ve la fanno come vogliono voi gli dite cosa volete riprodurre sulla console e loro ve la fanno i tasti personalizzabili cioè in questo caso vedete i tasti retroilluminati con le cromature intorno potete scegliere i colori se li volete verdi bianchi rossi o se volete i tasti classici tasti come il mio joy arcade che ha i tasti più classici e con una levetta più classica quindi in base ragazzi a tutto quello che volete creare a livello estetico loro ve lo creano quindi riuscite a unire due cose ragazzi un'esclusiva console creata solo per voi e per questo che vi ho portato questa ragazzi perché veramente questa è proprio particolare per far vedere fino a che punto si può arrivare nella personalizzazione quindi qua abbiamo un joy arcade singolo con la console integrata c'è anche la versione con due controller e la console integrata proprio in stile pandora però ripeto con tutti i vantaggi oggi ci in più ragazzi qua avete anche un prodotto che è italiano quindi voi dopo che l'avete acquistata se avete problemi non riuscite a fare qualcosa sapete a chi rivolgervi li contattate loro vi rispondono visto che il sistema operativo lo sviluppano loro lo conoscono in tutto e per tutto se nel caso vi si dovesse rompere con un pulsante o una levetta lo potete recuperare voi o contattate loro che ve lo mandano e così lo potete sostituire e in più ragazzi anche qua potete collegare un altro joy arcade tipo questo perché avendo lei la console integrata con il suo cavetto usb potete collegare un joy arcade a questa console quindi giocare in due o addirittura se potete avere questa console e avere anche questo quindi collegare il joypad bluetooth o col cavo come preferite quindi il giocatore userà il joypad e un altro giocatore userà il joy arcade o semplicemente potete avere questa e uno usa solo questo e quello non lo sta usando nessuno quindi veramente potete fare tutto quello che volete o addirittura acquistate quella doppia con due controller e con all'interno già la console ogc quindi ragazzi sono sempre contento di portare questi prodotti sul canale perché è vero che mi li mandano da provare poi li restituisco però è anche vero che non è che ci guadagno niente se i prodotti non fossero di buona qualità non li porterei nemmeno sul canale perché portare sul canale prodotti scadenti secondo me non vale la pena e non paga nel tempo quindi ragazzi vi lascio in descrizione tutti i contatti per contattare questi due ragazzi della ogc a meno li potete contattare chiedere un preventivo vedere il loro sito vi lascio tutto qua sotto in descrizione e quindi se anche questo video in cui vi ho portato questo prodotto ogc e vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non l'avete ancora fatto e se va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non vi viene anche un volo un video un'accensione un test e ciao